Bene ragazzi, prima di iniziare il video vi invito a lasciare 200 mi piace per un nuovo episodio degli standardi segreti Questo sarà un episodio speciale appunto ispirato ad Halloween ragazzi, quindi vi invito a spolliciare e vi auguro una buona visione E bella tu ieri e sulle bentornati in questo nuovo video, io sono Cristian67 e siamo con oggi ragazzi con un nuovo episodio degli standardi segreti Oggi vi andrò a presentare 5 nuovi standardi appunto ispirati ad Halloween Vi invito subito a spolliciare perché a 200 mi piace e vi farò un nuovo episodio Ora ragazzi vi lascerò la lista di tutti gli oggetti che vi serviranno appunto per costruire questi banner con appunto il procedimento Quindi ragazzi seguitelo bene per bene, vi lascerò tutti i banner e tutti i procedimenti uno dopo l'altro Quindi noi ci ribecchiamo alla fine, bella! Ok ragazzi ecco qui tutto Tutti i banner di oggi ragazzi della puntata di oggi di standardi segreti Quindi vi invito di nuovo a spolliciare se ne volete un'altra quindi raggiungiamo i 200 mi piace Mi raccomando ragazzi stasera live alle ore 21 quindi non mancate Io vi ringrazio tantissimo la visione e noi ci becchiamo in un prossimo video Bella! Grazie! 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 Grazie!